Sono stati liberati sabato mattina al Parco Bucci alcuni tacchini ermelinati di Rovigo, due esemplari di pavone bianco e un esemplare di pavone arlecchino, donati al Comune di Fenza dall'Associazione Acquemundi di Russi, titolare della Convenzione per il mantenimento e il miglioramento dell'area naturalistica del parco. Nella speranza di scongiurare atti delittuosi, come nel caso dell'ultimo pavone bianco, i giovani animali sono stati tutti dotati di sistema di rintracciamento e sono stati liberati fra lo stupore e la curiosità dei frequentatori del parco, tornati in molti sabato mattina a visitare l'area verde dopo il periodo di chiusura dovuto ai primi lavori di riqualificazione. Sono tutti animali di un anno, quindi animali molto giovani, sono tutti marcati, rintracciabili, sono stati donati in via definitiva al Parco Bucci, è una promessa che l'associazione che io rappresento ha voluto fare al Comune perché l'ultimo pavone pezzato è morto di vecchiaia, era un animale molto vecchio e il pavone bianco, come forse qualcuno di voi ricorda, è scomparso, non si è più ritrovato. Noi speriamo questa volta, avendo liberato questi animali, di rivederli, di non avere più problemi con queste persone che si appropriano di beni che sono di fatto della collettività. Abbiamo visto già il rapporto con le persone, sono animali molto docili come tutti gli animali qui nel Parco Bucci. Sì, sono animali docilissimi, sono animali che sono abituati a prendere il cibo dall'uomo ovviamente e sicuramente saranno un attrattivo importante. Ecco, quello che è giusto anche dire è che lo sforzo che facciamo noi come associazioni e anche il Comune di Faenza è quello di aumentare nel Parco Bucci la biodiversità, quindi le specie presenti, perché il Parco Bucci non è uno zoo, non è un giardino zoologico, è un parco cittadino dove il numero di animali deve essere contenuto, però è importante anche da un potista didattico offrire una biodiversità, quindi animali di molte specie contenendo invece quelle specie che tendono ad essere invasive, come per esempio l'oca del Nilo, come il coniglio che si riproduce a dei ritmi altissimi e che costituisce un problema azionale per il Parco Bucci. Quindi l'appello non liberate animali all'interno del parco? Certo, gli animali non vanno liberati, bisogna pensarci bene prima di comprare un animale, gli animali crescono, gli animali sono impegnativi, quindi prima di acquistare un animale pensateci bene, perché comunque oltre a costituire un danno il problema è anche un reato liberare degli animali, quindi questa supplica di smettere di liberare animali all'interno del Parco Bucci perché creano dei problemi al comune e alla collettività veramente importanti.